andiamo fatti e ok il bucho è il sacchetto dai andiamo, su eh, si gnu gnu gnu, andiamo se no mi distrugge il sacchetto no, 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 no vatti fantastico attacca bene cosa c'è? vatti, vatti finiscila non devi disturbare le persone cosa c'è? vatti, vieni qui non vi, non vi non vi non vi ci fa sì come va? si è fazzita? allora scopriò, sei incassata a lei dove è l'altra? con tua collega? no si odiano ah si odiano? lui si accompagna di l'altra io vatti cosa c'è? andiamo? dai che andiamo, su eh andiamo di là dai che dopo ti mollo perché questa mattina che sono qua farò girare ancora andiamo su salve salve accidenti che coraggio patti non sei mai venuta qui vieni ah poi è chiuso ma c'è? no? ah si è tutto si bella no? è no? 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 Come faccio ad andare a casa? Non posso portarti. Ciao.